Quest'anno siamo molto orgogliosi di presentarci a Eurocucine 2016 perché le novità del gruppo Luve, quindi Cucine Luve, Creo Kitchens e Borgo Antico sono veramente tante. Siamo orgogliosi di presentare un nuovo modello Oltre, per Luve, che copre dalla linea Industrial, quindi una linea di tendenza attuale, la linea High Line. Altri tre prototipi, tre novità che presentiamo in questa edizione, il modello Flower, quindi il modello classico, la linea Shabby Chic, il modello Lien, quindi un classico tradizionale da linea morbide e un nuovo modello moderno, Outside, con una nuova maniglia incassata nell'anta e in tinta. Anche per Creo Kitchen c'entrano molte novità, come il modello Logica, una cucina con telaio di massello di frassino, con una coniglie riportata che funge anche da presa maniglia. Abbiamo ripreso un nostro modello vincente degli anni Ottanta, il nostro modello Simpatia, l'abbiamo rienterpretato in chiave moderna e è nato il nuovo modello Airwind. E poi presentiamo il modello Aurea, quindi un nuovo classico in rovere naturale con nodini, arricchito con dei particolari in canna di fucile spazzolato. Siamo estremamente onorati di questo rapporto di collaborazione tra il gruppo Lube e l'Università di Camerino. La strategia è quella che abbiamo portato avanti da due anni. Noi abbiamo dato questa consapevolezza a un acquisto, a una gratifica che dopo tanti anni di crisi finalmente possiamo comprare una cucina con la qualità garantita dal gruppo Lube, ma a prezzi accettabili. Grazie a tutti!